Dopo che qualche cittadino ha alzato la voce a Galdo degli Alburni, qualcosa sembra finalmente muoversi per mettere mano a lavoragire sulla strada che collega l'abitato che continua ad allargarsi mettendo a rischio l'unica arteria della frazione di Sicignano degli Alburni. All'appello lanciato sui social da Luisa Maria Diorio, abitante di Galdo, che minacciava di chiamare i vigili del fuoco è arrivata la risposta di un assessore di Sicignano, Luigi Antonio Di Palma, che ha informato i cittadini di Galdo che i lavori di sistemazione stradale del muro di contenimento sono stati affidati dalla provincia all'impresa Euroappalti di Campagna, che ha già provveduto ai relativi sopralluoghi e tra dieci giorni inizierà le opere. L'amministrazione, nei limiti delle proprie competenze, ha seguito passo passo l'interburocratico sollecitando i responsabili dell'ente provinciale per la risoluzione del problema che si trascinava da tempo, la speranza di tutti, e che ora si faccia in fretta e che alle parole succedano i fatti.